Alle spalle di Invictus Camp è tutto un lavoro organizzativo, gestionale, di accordo che è nato grazie a una persona al direttore del CRB Club Carisbo, il dottor Saverio Pierini, che ringraziamo. Grazie a lei, grazie a tutti voi e all'organizzazione. Per noi è un grande piacere essere stati proprio scelti per questo importante evento. Ringraziamo Zoran, sicuramente Zoran Savic, ma personalmente per me è stato un grande piacere invece fare, preparare questa conferenza stampa di oggi e creare questo evento insieme a Michele Forino e a tutta l'organizzazione di Invictus. Perché se pensiamo che abbiamo cominciato due mesi fa neanche e abbiamo fatto tutto molto di corsa, ma direi anche molto bene perché la presentazione di oggi, la conferenza stampa è stata veramente completa e si ha già un'idea proprio di quello che sarà l'evento. Il CRB Club ha avuto in questi 30 anni possibilità di ospitare manifestazioni importanti ed è molto contento di dare il sostegno come Carisbo in Tierra San Paolo anche a questo bellissimo evento che coinvolge tutta la città, i bambini e i ragazzi della nostra città. Grazie, grazie a tutti. Grazie.